cari amici cari amici 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 mia e tanti saluti da serafino massoni tranquilli è bellissimo non sono io bellissimo è chiaro tranquilli tranquilli non sono io bellissimo è bellissimo è un aggettivo che ha usato l'amico Doco Ratius e nei confronti del mio filmato serafino massoni dottrina cattolica è un filmato che avrà un anno un anno e mezzo un anno e mezzo non ricordo bene l'ho recuperato e poi come credo di aver tolto il move come mi ha detto di fare l'amico Optimus 8.3 Ion e poi credo anche di essermi ricordato di scriverci riloadit cioè ricollocato come mi ha detto di fare l'amico Ecofredo va bene allora vediamo un po partiamo un po da questa parola bellissimo bellissimo e il mio povero babbo mio povero babbo che era toscano mamma no era mantovana mamma ma babbo era toscano mi diceva sempre che la brava la brava massaia 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 cioè la mogliettina la mogliettina la brava massaia trasforma una acciuga in un piccione cioè in cucina no la brava massaia con pochi ingredienti ti fa un miracolo la cattiva massaia invece trasforma il piccione in un acciuga adesso trasformiamo questa parola una sola parola bellissimo ci costruiamo sopra un mondo vedete un po che si può partire da bellissimo e costruirci sopra un mondo bellissimo ripeto è un complimento che Do Coratius ha fatto a un mio filmato questo filmato è dottrina cattolica e uno io stesso io stesso lo definisco uno di me i migliori filmati e ogni tanto me lo vado a rivedere me lo andavo a rivedere ogni tanto anche quando l'avevo fatto l'avevo fatto un anno un anno e mezzo due anni fa lo saranno lo sapranno YouTube e il professor Tommaso Gastaldi quando l'ho collogato non lo so un anno e mezzo due anni fa forse va bene bellissimo poi c'è anche ecco cari questo video è anche fatto per costruire un video sull'aggettivo bellissimo ma è anche fatto per così rispondere rapidamente ad alcuni che hanno commentato per esempio Renzo Colameo dall'Irlanda dice che sulla famiglia cristiana sulla famiglia cristiana giustamente lui dice abbiamo il primo caso storico e come dire religiosamente riconosciuto di fecondazione artificiale e e e e e e eterologa e e eterologo siccome gli cristiani tutti in un pezzo quelli tutti in un pezzo quelli che hanno i valori così con la via in maiuscola dicono che non va bene la fecondazione artificiale eterologa che al massimo si può fare la fecondazione artificiale omologa cioè quelli con i valori forti dicono che non va bene che il bambino non sappia da quale sperma proviene non va bene ogni bambino deve sapere qual è la sua mamma e qual è il suo papà geneticamente parlando se una coppia ci sono problemi che il papà ha dei problemi ci sono dei problemi nel senso della fecondazione naturale allora che si fa a quelli che hanno i valori forti dicono noi prendiamo lo insomma problemi possono avere la mamma il papà non ha importanza si può al massimo tirar fuori lo sperma lo sperma dal papà ed inserirlo nella nella vagina di mamma questa è la fecondazione artificiale artificiale invece ci sarebbe anche un altro modo di fare la fecondazione artificiale di farla eterologa cioè di andare a prendere lo sperma non del marito della moglie ma di un altro di un altro uno sconosciuto dice no questo non va bene questo non va bene e invece la famiglia la famiglia la prima famiglia la prima famiglia la famiglia che sta alla base del cristianesimo è una famiglia che si è formata con la fecondazione artificiale eterologa e ditemi voi chi è il papà di gesù e col massimo rispetto per la dottrina di gesù ci mancherebbe altro che io l'ho sempre elogiata la sua dottrina è sempre elogiata e prima di guardare il fuscello nell'occhio altrui guarda un po' miserabile la trave nel tuo occhio io c'è un po' miserabile anima morta guarda la trave nel tuo occhio e poi se mi vuoi seguire abbandona tutte le tue ricchezze e poi è più facile che un cammello o una gomina entrino nella cruna del lago di un ago o che un ricco entri nel regno dei cieli che l'ho sempre apprezzato Gesù ma Gesù è in realtà è frutto di una fecondazione artificiale e eterologa e per papà non era Giuseppe papà lo sappiamo e si dice che è stato lo spirito santo e vabbè ma mica è facile individuare lo spirito santo e così è così Renzo Colameo Renzo Colameo dall'Irlanda pensate un po' che cosa come va a commentare il video dottrina cattolica dottrina cattolica poi c'è da tube da tube che definisce il video di stampatello efficace io mi vorrei poi tanti scopo perdonatemi cari e perdonatemi se lo faccio però mi vorrei fermare su quel bellissimo 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 dice un video bellissimo sì io lo riconosco come uno dei miei video migliori uno anche di quelli che io preferisco è una vergine berringo dio quanto mi piace una vergine berringo e mi riguardo ogni tanto mi diverto io stesso quasi quasi che non li avessi fatti io mi sembra di non averli fatti è lo stesso video video lì dottrina cattolica manco 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 mi pare di essere stato io a farlo perché ci sono certi video diciamo così goliardici ironici che quando li fai li fai sulla base di una è di una specie di ispirazione è un momento di grazia un momento di grazia per cui lo stesso autore quasi quasi non ritiene di essere lui l'autore e se li va a vedere lo stesso autore se li va a vedere come se fosse stato un altro a farli e quindi è bellissimo efficace allora questi questi blog blogger carissimi amici e tanti altri tanti altri che usano questi aggettivi bellissimo efficace tanti tanti da prendiamo il bellissimo allora io dico è proprio vero che le anime vive del mondo reale e del mondo virtuale si aggirano sull'ottanta per cento le anime morte del mondo reale e del mondo virtuale non superano il 20 per cento perché come cosa spinge una una un qualsiasi giovane o meno giovane a andare sul canale di serafino massoni guardare i video diciamo così dedicare il suo tempo ai video e poi e poi pure a scrivere bellissimo efficace e tante tante altre cose cos'è che spinge questo ma perché questo do corazzi per esempio se ne poteva stare che so a guardare un film che so a guardare la televisione a leggere il giornale e invece no va a guardare i filmati di serafino massoni e addirittura su uno ci spiegano bellissimo sono filmato quindi non sono io bellissimo è il video il video io questa mattina al bar al bar ero al bar in piazza massoni ho continuato a pensare a questa faccenda di questo bellissimo bellissimo efficace ma anche a tante e lì bevo il caffè e fumavo la sera si sta tanto bene in piazza massoni e andateci pure voi a prendere un caffè al mattino a fumarvi una sigaretta oppure andateci di sera ma la sera soprattutto per prendervi che sono un aperitivo e va bene per prepararvi alla cena e lì pensavo fumavo e pensavo ma perché ma cosa spinge cosa spinge uno una persona così ci sono mille mezzi di comunicazione televisione radio la stampa il cinema a piazzarsi lì davanti al computer e a guardare un filmato un filmato di serafino massoni va bene perché perché e poi a scriverci pure bellissimo perché e allora mi sono ricordato di una celeberrima frase di johanna volgang kutte il quale diceva attenzione la sua frase è la seguente se se vuoi gioire del tuo proprio valore devi attribuire un valore anche agli altri allora io dico che se docco oratius ritiene che quel filmato lì dottrina cattolica ma poteva essere anche qualsiasi altro filmato se meriti il la qualifica di bellissimo e io gli devo dire che come fa il coso come si chiama lì il boomerang il boomerang questo bellissimo che tu docco razios attribuisci a quel video come un boomerang ritorna su di te perché chi capisce che una cosa è o ritiene che una cosa sia bellissima è all'altezza della dimensione del bellissimo o del sublime come direbbe kanta quindi è gli stesso e gli stesso docco razios partecipa di questa dimensione sempre sulla base della frase johanna se vuoi gioire del tuo proprio valore devi attribuire un valore anche agli altri se tu hai attribuito hai attribuito a questo video dottrina cattolica la qualifica di bellissimo questa qualifica di bellissimo ti ritorna indietro come in un gioco di specchi all'infinito e tutti rispecchi nella dimensione del bellissimo capito caro amico viceversa chi chi lancia un boomerang di disprezzo il boomerang gli ritorna indietro perché chi lancia i boomerang della malvagità partecipa della dimensione della malvagità proprio ancora come in un gioco di specchi caratterizzato questo gioco dalla malvagità e allora andiamo avanti allora adesso interrompiamo brevemente e dico saluti 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 alla signora paola di youtube saluti alla signora paola di youtube che una volta mi ha telefonato sul mio cellulare però io purtroppo purtroppo non so per quale motivo non so per quale motivo fatto sta che dopo ho trovato il messaggino dove c'era scritto signor c'era fino massoni sono paola di youtube le volevo dire come stanno le cose comunque stia tranquillo perché stiamo rimettendo tutto a posto e infatti poi youtube il team credo nazionale di youtube di cui fa parte questa signora paola assieme al professor tommaso gandolfi hanno rimesso tutto a posto tutto a posto tutto a posto va bene tutto a posto questo glorioso chanel va bene e questo canale il professor tommaso gastaldi ma ci dovrà fare un filmato caro amico tommaso gastaldi sul tuo cognome ci dovrà fare un filmato è un filmato che ci porterà molto 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 lontano te l'assicuro qualcosina l'ho già detto in un precedente filmato sul tuo cognome ma questo cognome di gastaldi ci porterà molto 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 lontano lo farò il filmato gastaldi perché gli antichi romani dicevano nomen omen 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 est omen nel nome c'è il destino si 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 c'è qualcosa nel nostro cognome c'è qualcosa non diciamo di rigidamente deterministico ma c'è qualcosa c'è qualcosina nomen omen nomen est omen allora se questo cognome gastaldi mi continua a inceppare il cervello si vede che c'è qualcosa di interessante d'accordo ah tra l'altro poi in un altro video precedente ho continuato a far confusione tra tra giorgio galli giorgio celli e l'altro giorgio colli 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 e io non ho nominato giorgio colli quando mi sono corretto su giorgio giorgio galli e giorgio celli io al posto di giorgio celli ci dovevo mettere giorgio galli e me l'hanno fatto notare caro non mi ricordo chi tu sei mi hai fatto notare e tu anche risposto uno mi ha detto oh ma poi non azzecchi manco uno con i nomi e vabbè ma e si vede che come c'avevo resistenza nei confronti del grande insigne professore giorgio galli perché gallo dice c'è il gallo nel pollaio il gallo è anche il bullo non mi piace questo gallo mi dispiace e purtroppo in questo caso nome non è stato ome perché non mi piacciono i galli i galli i bulli non mi piace però questo è un grande lo stesso giorgio galli e si vede che pure giorgio colli non mi piace colli colli il collo perché uno dice oh cerca di salvarti cerca di salvarti il collo cerca di salvarti il collo no salvarsi l'osso del collo mi pare c'è una resistenza c'è una resistenza di fronte a colli il cognome colli collo colli collo colli è l'osso del collo e vedi seguito e così Gastaldi io ti invio sempre a Gandolfi adesso farò una ricerca interiore e etimologica per questa faccenda di Gastaldi e Gandolfi comunque ti ringrazio tanto perché io ogni tanto trovo nuovi filmati nuovi filmati nuovi filmati nuovi filmati in questo canale questo glorioso Chanel va bene ieri misteriosamente mi sono trovato i due pezzi migliori del gladiatore i due pezzi migliori i due pezzi migliori la parte centrale la battaglia la battaglia tra i cosiddetti barbari e le legioni di Scipione l'africano la parte principale e poi mi sono trovato con la parte finale del duello ma chi è questo eone è un eone 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 nella filosofia neoplatonica che poi è una ripresa ed un ampliamento della filosofia platonica gli eoni assomigliano un pochettino a quelli che noi chiamiamo così semplicemente angeli messaggeri nella dottrina cristiana o cattolica ci sono le gerarchie angeliche che tengono i contatti tra la divinità e l'umanità e queste gerarchie angeli che sono gli angeli gli arcangeli i cherubini i serafini i troni e le dominazioni e pensate voi che a proposito degli angeli serafini serafini e io mi chiamo serafino e il nome serafino deriva è un nome ebraico quanti sono i nomi ebraici che abbiamo noi uno che si chiama pietro 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 ma quanto c'è simone simone ma la metà della metà dei vostri nomi cari amici e io dice ebraica dice non siamo tutti ebrei non siamo non siamo tutti ebrei la stessa basilica di san pietro il cuore del cattolicesimo è dedicata ad un ebreo pensate un po voi ebrei il mondo in mano il mondo in brano agli ebrei e agli arabi cioè ai semiti i semiti perché le tre grandi religioni monoteistiche patriarcali cioè con un dio personale persona una persona non un'entità stratta una persona e sono semiti i semiti sono gli ebrei gli arabi e gli etiuvi allora il primo grande monoteismo patriarcale quello di Yahweh nasce tra gli ebrei tra i semiti il secondo monoteismo patriarcale col padre maschio eterno è il cristianesimo perché cristo 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 è un ebreo è un ebreo capito è un ebreo nasce nasce proprio lì tra gli ebrei è proprio un ebreo e come si chiama la alla 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 e non è forse un dio degli arabi si dopo loro dicono che sono universali loro sono degli dei universali ma guardiamo i fatti nei fatti loro sono nati tra i semiti e voi non mi venite a dire che i semiti non hanno conquistato il mondo non mi venite a dire siamo sei miliardi di abitanti all'incirca cinque miliardi adorano gli dei dei semiti non mi venite a dire che il mondo non è in mano ai semiti chiaro vuol dire vuol dire girare non guardare non vederle la realtà e i semiti hanno conquistato il mondo sul piano religioso e il resto conta poco poi quei particolari semiti ebrei che sono gli ebrei oltre ad aver conquistato il mondo con i figli del loro dio Yahweh i figli del dio Yahweh sono Cristo e Allah eh eh sì 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 i figli del dio Yahweh si chiamano Cristo e Allah Cristo e Allah il ramo è è quello di Yahweh il ramo il padre Yahweh il tronco è Yahweh il tronco il tronco si tronco e i rani sono prima sboccia il ramo del dio ebreo Cristo e poi il ramo del dio arabo ergo semita Allah Allah il mondo è in mano ai semiti sul piano religioso e sul piano economico giustamente il portafoglio sta in mano al papà degli dei patriarcali papà che è Yahweh e Yahweh ha conquistato il mondo e lo tiene lui il portafoglio del mondo perché è il papà e altri due i suoi figli durante il cristianesimo e islamismo dovranno aspettare che muoia il papà quando sarà morto il papà erediteranno il controllo finanziario dell'universo ma non si può pretendere che prima che muoia il papà prima che muoia il papà i figli si possano godere già l'eredità no e no il patriarcato non è così sì si dice ancora ti pagherò a babbo morto ti pagherò va bene ma questa è una piccola cosa che ti pagherò a babbo morto e ancora i cristiani e islamici e devono mettersi l'anima in pace perché il loro papà non è morto ancora non è ancora morto il loro papà e bisogna fare così perché se no ti succede come nella cosmologia ebraica no nella cosmologia ebraica non ti è successo che il padre eterno nella sua infinita misericordia ha inventato cioè ha creato prima le schiere angeliche ha creato le schiere angeliche no i suoi figli gli angeli sono i suoi figli sono i suoi figli gli angeli e tra questi angeli c'era il più bello era lucifero e figlio lucifero figlio di suo papà di dio papà il padre eterno e come in ogni famiglia monogamica patriarcale che si rispetti il figlio il figlio o i figli vogliono totem e tabù di sigmund freud e totem e tabù di sigmund freud e i figli vogliono l'eredità anzi tempo e se il babbo non gliela vuole dare l'eredità perché ancora non è morto gli fanno la guerra i figli lo vogliono ammazzare così lucifero con le sue schiere alcune schiere alcune schiere di angeli ribelli si ribella contro papà totem e tabù sigmund freud e papà però li acchiappa e crea l'inferno in quel momento crea l'inferno e riscala ventagione il profondo inferno poi di questa operazione ciò che è singolare è che l'inferno i figli i cristiani e gli islamici ce l'hanno invece gli ebrei non ce l'hanno più l'inferno perché il dio Yahweh chissà com'è l'inferno l'ha creato per gli angeli ribelli ma non per gli uomini ma non per gli uomini non per gli uomini perché il dio Yahweh è molto 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 più buono dei suoi figli Cristo e Allah perché il dio Yahweh non ce l'ha all'inferno non manda nessuno all'inferno capito quanto è buono il dio Yahweh che se non ci fosse il buddismo io potrei dire ma io mi faccio ebreo mi faccio pure se lo siamo tutti ebrei anche se non lo vogliamo ma io mi faccio ebreo mi faccio così non mi manda Yahweh non mi manda all'inferno come il dio cristiano e il dio islamico dici che sono dei figli dei figli buoni buoni dei dell'amore e però c'hanno l'inferno datelo a dire voi ai brevi c'è o non c'è l'inferno l'avete tolto dalle preghiere l'avete tolta tolto dalla preghiere la frase libresci dalle fiamme dell'inferno andateglielo a chiedere e poi vediamo cosa vi rispondono cosa vi rispondono su quella preghiera appunto in cui c'è scritto una preghiera che si recita nel mese di maggio quando ci sono i cosi come si chiamano i rosari per la Madonna no la Maria dice liberaci dalle fiamme dell'inferno andateglielo a dire c'è c'è l'inferno per le religioni cristiana e islamica che sono le religioni figlie nate dal papà ebraismo e il papà non c'è l'inferno in questo caso il papà si rivela più buono dei propri figli va bene va bene cari amici tornando al nome Serafino che mi dicevo che è di origine ebraica ma gli ebrei a loro volta lo avevano preso questo nome questo nome da dagli assiri babilonesi durante la cattività la cattività babilonese mi pare che c'è dentro una settantina d'anni e loro lì presero tanto tanto quei settant'anni presero tanto dalla cultura assiro babilonese e presero pure il nome Serafino perché là tra gli assiro babilonesi i Serafini erano delle divinità infernali i Serafini erano delle divinità infernali e per la precisione erano dei draghi dei draghi che sputtavano fuoco draghi che sputtano fuoco per cui quando sono tornati indietro indietro gli ebrei quando sono tornati indietro si sono liberati da quella che si chiama la cattività babilonese per merito degli persiani per merito di Ciro il grande che nel 538 a.C. tefondò l'impero a Chemeni di persiano Ciro il grande Ciro il grande liberò liberò gli ebrei tornarono nella loro terra in terra di Cana nel loro regno e Serafino fu da loro trasformato non più in un drago che sputta fuoco ma in angeli in una specie di eoni di plotino neoplatonici di eoni gli angeli avvolti nel fuoco ma in senso metaforicamente in quanto pieni di ardore ardenti d'amore per Dio quindi l'etimologia di Serafino non è tanto dolce non è tanto dolce per cui le anime morte del web le anime morte che sono sempre quelli col braccino alzato in tempi in cui Gianfranco Fini Gianfranco Fini e anche lì Nomen Ome Fini 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 è una persona fine fine da tanto tempo non lo fa più saluto romano che io non lo chiamerei saluto romano ma saluto nazifascista nazifascista perché i romani hanno fondato un impero ma non hanno mai compiuto le malvagità dei nazifascisti nel momento in cui il saluto romano non te lo fanno più quelli di alleanza nazionale da quanto tempo che non lo fanno più quelli di alleanza nazionale saluto fascista nel momento in cui neanche Cosola come si chiama quello che si è spostato a destra prima era amico di Gianfranco Fini dopo si è spostato a destra ah Storace, Storace, neanche lui, neanche lui ti fa il saluto fascista ma chi sono queste quattro anime morte che dopo che lo stesso Gianfranco Fini A.N. e lo stesso Storace, Francesco Storace mi pare non lo fanno più da un pezzo il saluto fascista ma chi sono questi dubbi di fogna che ancora fanno un saluto fascista ma quali sono? allora queste anime morte devono avere paura di uno che si chiama Serafino perché Serafino ha la sua etimologia originaria andatevola a vedere Ignorantoni sono anche Ignorantoni le anime morte Ignorantoni, andate a verificare Serafino significa trago che sputa fuoco e voi pensavate di fargli qualcosa voi? Miserabili? Ignorantoni, che non ci avete neanche è un becco di un quattrino anche se io non vado d'accordo col quattrino però voi non ci avete neanche il becco di un quattrino per andare a prendere un caffè e fumarvi una sicurezza in piazza Massoni eh? Miserabili, Ignorantoni e voi state lì ancora col bracino così miserabili? eh? col bracino così morti di fame morti di fame e io mi chiamo Serafino mi chiamo, capito? faccio parte della gerarchia angeliche ma sono quelle particolari gerarchie angeliche fuoco, fuoco che c'hanno il fuoco, capito? che c'hanno e chi tocca i Serafini si brucia si brucia, si brucia proprio fuoco Serafini andate a vedere Ignorantoni Ignorantoni morti di fame e morti di fame? no perché c'è la crisi eh ma perché non ci avete voglia di lavorare, capito? uno mi ha detto disse io non sono non c'ho la cultura di Serafino Massoni perché non ho potuto studiare Ignorantoni ma tutti possono studiare oggi e vai alle scuole serali Ignorantoni invece di perdere il tempo su Youtube a sporcare Youtube con quella tua miserabile manina lì che mi sembra una marioranetta un burattino uno spaventapasseri serì Serafino Massoni bellissimo allora sì anch'io lo ritengo scusatemi e quel video dottrina cattolica bellissimo sì ogni tanto vado a consolarmi guardando a come ritengo anche una vergine per gringo e mi pare che Ecofredo ci abbia fatto una bellissima un bellissimo video bellissimo di tipo coliardico su una vergine per gringo bello mi piace ogni tanto me lo vado a rivedere mi pare di non essere ma manco di mi sembra di non essere stato io a farlo quel video li volevo bene perché ripeto che quando si fanno certi video certi video particolari parlo di video particolari ci si deve trovare in una specie di stato di grazia magari tu non sei più tu è qualcos'altro che lavora per te per cui dopo quando lo vai a vedere ti dici ma come ho fatto io a farlo quello lì ed effettivamente ogni volta che mi vado a rivedere dottrina cattolica sono stato io a farlo come ho fatto a farlo quel video lì anche una versione che riggo ma ce ne sono anche altri che adesso li recupero e poi li ricolloco ricordandomi di quello che mi ha detto Ecofredo che mi ha detto di scriverci sopra quella famosa parola lì cioè che è un nuovo un nuovo piazzamento un remake un remake voi giovani riconosce tutte le storie ah voglio terminare facendovi osservare una cosa tanto strana ah togliendosi anche la move 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 movie film una cosa tanto strana sempre riallacciandomi la faccenda lì del bellissimo di docco radios efficace data tuba dicevo ma come mai questi giovani o non giovani vanno lì a perdere tempo sui video di serafino massoni come mai che ci sono tanti mezzi di comunicazione di massa io non c'ho il nome non sono stato non ho beneficiato di familismo nepotismo cooptazione ma che cos'è allora il web che cos'è youtube ma youtube è nato ed è stato colonizzato dai giovani dai giovani è stato colonizzato da gente che viene dal basso gente che viene dal basso nessuno nessun berlusconi e che so nessun berlusconi o altre persone importanti ha acchiappato questi giovani ha detto vieni vieni qua che ti mettiamo su youtube ma no youtube è stato colonizzato da giovani che vengono giù dalle periferie e com'è e com'è che dopo che la terra di youtube è stata colonizzata da questa gente che viene dal basso io pure vengo dal basso per laurearmi ho già detto tante volte ho fatto il fornaio ma non quello che lo vende il pane che fa il sorriso ecco ti un chilo di pane no quello che sta proprio nel forno che fa il pane c'è un mio amico siciliano che è fornaio io lo potrei fare meglio di lui il pane se mi chiedi i consigli gli do va bene allora dicevo tu caro amico dici sempre che sei tu come è che noi siamo gente che viene dal basso viene dal basso viene dal basso ma chiediamoci perché per chiediamoci perché su youtube negli ultimi anni ci si sono messi mi pare al number one mi pare la regina elisabetta d'inghilterra e poi dopo ci si è messo il vaticano poi dopo ci si è messo pure ci si è messa pure la camera dei deputati e poi la campagna elettorale americana Obama e tutti gli altri concorrenti alla casa bianca tutti quanti su web in specie su youtube allora che cosa vuol dire questo ma non vorrà forse dire per caso che youtube web youtube internet stanno diventando dei mezzi di comunicazione di massa molto più potenti molto più potenti di tv radio giornali e cinema eh e allora quando mi viene dato questo bellissimo dal mondo del web dal mondo di youtube per me questo bellissimo vale molto di più che se mi venisse dato da dalla tv dalla stampa dalla radio o dal cinema perché il mondo del web il mondo di youtube ci sta rivelando in tutta la sua potenza proprio nel momento in cui i grandi potenti devono abbassare la testa e andarci anche loro su questo mondo regina elisabetta e barack obama e gianfranco fini ehm il partito democratico il partito delle libertà tutti 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 aprono aprono un loro posticino su youtube essi hanno capito che il web internet e nella fattispecie giuridica completa youtube valgono molto di più dei loro vecchi sistemi di comunicazione per cui torno all'inizio di questo video e dico beh chi ha detto bellissimo in fin di conti onorando me non ha fatto altro che onorare quello che è diventato il più potente mezzo di comunicazione di massa che è youtube va bene cari amici cari amici eh adesso mi vado a risentire qualche canzone mi raccomando professor caro professor tommaso gastaldi continua a piazzarmi i tuoi meravigliosi video musicali su questo canale ti prego salutami lo staff italiano eh di youtube eh di cui io conosco solo la signora baula ringraziami la signora baula ringraziami tutti gli altri colleghi della signora baula va bene cari amici siamo partiti come avete visto da una come si dice da una una cosa da poco una parolina bellissimo e abbiamo fatto un po' il giro del mondo va bene grazie grazie e a tutti voi tanti saluti da Serafino Massoni grazie a tutti grazie a tutti